Iniziale italiane, torna Back to the Future, ritorno al futuro, perché si celebrano i 30 anni di questa pellicola, che è la pellicola per Antonio Masia dei viaggi nel tempo. Senti, ma perché il 21 ottobre andiamo in cima? Perché lo chiedi? Perché Doc e Marti il 21 ottobre arrivano dal futuro. Eccoli qua, no? Ciao, scusa, ma è Einstein questo cane? Doc, ma non c'è abbastanza strada? Dove dobbiamo andare noi non c'è bisogno. Ci vediamo al cinema il 21 ottobre. Grande giove! Grande giove! Grande giove! Ci vediamo al randuno mondiale! 21 ottobre 2015 Io è importante cercare la mia figna nel segnale, che è un bon ter pupo, perché non dimentichino la mia figna di 140Pe? Grazie a tutti